torna con chi casco sei una puntata molto particolare della nostra introspezione sugli elmetti racing qui al download chief perché perché dedichiamo una puntata tutta al cecchini racing team perché lorenzo cecchini disegna crea aerografa i caschi del team andiamo a vedere chi sono e come sono fatti tappa del mugello chi casco sei siamo con cristian l'holly ciao cristian ciao a tutti allora allora quel casco che tutti rimanono ha un bellissimo un bel colore col 29 in realtà adesso lo descriviamo ma è un po quello che tu usi per gli allenamenti sì sì li uso per allenamenti era un casco tutto bianco e il mio quello che mi fai caschi ha detto demo dammi il casco che te lo faccio in un modo tutto strano e me l'ha portato così giovedì tutto rosso devo dire molto bello e nuovo nuovo quindi sì sì nuovissimo e c'ha anche gli occhi da serpente che gli auguro belli belli sì sì molto belli te l'ha fatto questo lorenzo cecchini e andate tutti a seguirlo e fa dei caschi spettacolari allora praticamente lorenzo cecchini ha pensato di fare un casco diciamo da proprio comunque un po destinato a quello che poteva succedere nascevolata per preservare poi il casco ufficiale devo dire che questo qui test ti si vede anche nella nebbia beh sì tutto rosso così sì dai puoi fare anche i test invernali con questo esatto esatto ma ora io vado a porgerti il tuo vero casco adesso succederà tu prendi questo io prendo questo qui abbiamo invece quella che è la grafica che tu porti in gara in moto 3 qui al download chief sempre lorenzo cecchini credo l'abbia ideato sì sì sempre lui e questo è un casco che ci abbiamo lavorato molto con lorenzo e ci siamo messi giù tutte le sere lavorando insieme e ecco il risultato devo dire molto molto bello e ha faticato parecchio per fare questo casco ma devo dire che è molto bravo allora la cosa che si nota subito è chiaramente il 29 che è il tuo numero ma sei tifoso di annone tu beh sì a parte il 29 è il mio numero di nascita quindi io ho scelto il 29 ma adoro sempre gli annoni mi è sempre piaciuto e spero di diventare come lui allora il numero 29 è un motivo ricorrente perché lo vedete c'è sulla calotta c'è sui lati permangono gli occhi del serpente però mi devi spiegare i motivi cromatici come le hai scelti immagino che seguono un po i colori del team perché vedo del blu vedo del grigio sì sì seguono molto i colori del team ma questi diciamo lorenzo cecchini ha deciso di farli così e gli ho detto beh ho mandato uno schizzi e gli ho detto ma sì dai perché no mi sono piaciuto subito e ecco il risultato quanti ne hai infatti cristian di casca ne hai uno per i test che penso sia unico di questi invece versione gara quanti ne hai di questi ne ho due uno da asciutto e uno da bagnato quindi pronto per l'evenienza dovesse piovere tu tac cambi casco e via sì sì esatto ogni anno lo cambi perché abbiamo visto l'anno scorso vi è un casco un po diverso ecco ti fai consigliare per cambiare la cromia oppure tu c'hai un'idea di base beh io c'ho un'idea di base poi tramite lorenzo sia giusto un po lui ma di solito faccio fare quasi tutto lui ma perché è molto bravo e mi fido solo di lui allora bravo cristian ti ridò anche il tuo casco a testa e ti congediamo perché davanti a noi fuori fuori campo c'è lorenzo cecchini vieni guardalo mannaggia me tocca ecco io cecchini mi hanno sempre questo problema che lui è alto due metri e venti e io sono basso quindi va bene allora hai continuato questa questa partnership con cristian l'olio un pilota del vostro team devo dire che a parte il casco tesca è molto bello mi ricordo un po un colore schubacche rosso ferrari quello lì ma quello da gara è veramente un spettacolo perché è sobrio ma efficace si ha delle linee pulite è incasinato ma pulito è entropia è un disordine ordinato è un mix è un mix di cose dopo dai voleva i numerini abbiamo fatto tutto la texture con i numeri e poi tutto quel motivo incastonato con tonalità di grigia più chiara più scura antracita l'azzurro del team è un insieme di cose dietro voleva gli occhi del serpente si è fatto una stilizzazione di questi occhi e così lui è molto contento io sono contento bel lavoro e dai andiamo avanti così quando tu pensi a uno schema grafico per un pilota ovviamente devi conoscere il pilota ecco l'olio ti suscita questo ordine disordinato o disordine ordinato è un disordine completo con lui perché gli parli gli dici allora dammi dammi una linea guida cosa vuoi fare una roba così non lo so fai te poi quando gli fai vedere quel qualcosa che hai fatto te ti risponde no ma volevo così addimolo prima e dopo è un po' una lotta ma come con lui come tanti con tanti altri cioè appunto dopo abbiamo anche al di fuori appunto essendo nel team facciamo quello di valentino quello di taccini ma allora ma allora ragazzi vedi come ti converto subito la puntata di chi casco sei facciamo la puntata sul rezzo cecchini prima di passare gli altri caschi che andiamo a prendere e visto che abbiamo la fortuna per una volta di avere chi li fa realmente il casco di lolli che abbiamo appena visto quanto ci si mette proprio in ore di lavoro a farlo ma allora quello di qui in sto caso a me quando mi sono arrivati i caschi dalla Nolan ne sono arrivati tre tre a testa e c'è un partito che ne ho fatti due uno lasciato da base di test e ci ho promesso per fare due quattro cinque sei caschi mattina sera una settimana quindi diciamo più o meno un giorno a casco giusto oddio in un giorno fare un casco è dura deve essere proprio una roba cioè quello di valentino che vedrete è un casco che si fa in un giorno e mezzo diciamo però devi partire dalla mattina arrivare alla sera a martellare e dimmi una cosa che mi incuriosisce molto tra quello da gara di cristian e quello dei test che ovviamente quella di test è passami il termine colore unico c'è tanta differenza di ore di lavoro sì 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 diciamo che quello lì rosso fatto così l'ho fatto proprio io perché era era bianco è andato ad allenarsi era l'avevo un po rovinato quindi l'ho messo a posto allora ho detto ma sempre fatto una storia voglio il numerone sulla testa dopo a volte ci si scontra no io ho un'idea tu ne hai un'altra ma è una cosa già vista no ma voglio il numerone allora va bene io ho fatto un po' una sorpresa con questo molto semplice rosso sono due numeri non è niente di che però chi è passato qui ha visto gli è piaciuto un sacco la morale è dai e dai e gli ha dato il numerone lorenzo prendiamo il casco di taccini così lo vediamo che l'ho intravisto prima non era prevista questa cosa ah prendiamo quello da bagnare va bene va bene è tutto live praticamente questo servizio perché non ci aspettavamo c'è l'unvilling l'unvilling lorenzo cecchini fa l'unvilling del casco di leonardo taccini che corre con il cecchini racing team in realtà nella 600 eccolo qui e beh è vero allora questo è quello di leonardo taccini giusto da bagnato da leo si di bagnato perché l'altro appena finito la gara lo devo sistemare dare una pulita e tiro off e tutto perché oltre a quello mi occupo anche di tutta l'assistenza che c'è dietro al casco allora e questo motivo chiamiamolo fiamme è un motivo in realtà che nel motosport si è visto spesso te l'ha chiesto leonardo o gliel'hai proposto tu? lui è arrivato da me quando poi corre con noi quindi quando è arrivato da noi al cappannone parlando come facciamo il casco come non lo facciamo lui è arrivato a o io voglio le fiamme qua per romano no? ha detto va bene però semplice e impattivo perché ho sempre avuto i caschi semplici che mi si vedeva da lontano allora ho detto sai di solito uno fa la fiamma no? sfumata, controsfumata abbiamo detto semplice, netto, fiamma arancione, buona e poi dopo gli ho detto dai dietro ci starebbe a riempirlo con una texture, questo effetto qui no? e gli ho fatto vedere un effetto che già avevo un cartellino fatto in un modo così mi ha detto bello procedi e dopo è nato questo qua e tu hai proceduto, è un effetto un po' granito? sì, dipende, chi vede del marmo sì no scusa, marmo, marmo, marmo no no no, c'è chi vede del marmo, chi vede un po' non so, me ne hanno dette tante dopo ho detto vabbè mi piaceva sto effetto tanto questo qui è semplicissimo no? con una busta ti metti lì, tappezi, fai il colore appena fresco tac 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 vedi, si parlano delle cose allora mentre Su e Lolli c'erano gli occhi di tipo Godzilla qui abbiamo il nome, Leo anche questo mi sembra ben visibile questo è il casco di Leonardo Tacini io passerei all'ultima creazione che è quella di Casalboni, giusto? adesso il buon Cecchini mi va a prendere anche Casalboni ne vedo uno verde lì ah ma quello ma quello verde di chi è? a Casalboni, Casalboni quello che vedete inquadrato adesso è di Nino Casalboni io direi che comunque hai fatto della semplicità delle tue creazioni l'arma vincente perché questo nella sua semplicità è molto di impatto secondo me sì, mi dispiace che purtroppo adesso appunto hanno appena corso mi dà un po' fastidio farlo vedere così però sì, no, Valentino mi ha detto proprio voglio essere riconoscibile voglio essere semplice, pulito, lineare casco al style questo è bello perché vi abbiamo fatto vedere tre caschi totalmente differenti tra di loro ma fatti dalla stessa mano questo hai ragione è un casco al style cioè negli anni 80 due colori linee secche pochi casini e questo è il risultato mi chiedo solo perché abbia scelto il verde quando le vostre moto sono azure cioè ha un particolare amore per questo colore ma Valentino quando è arrivato da noi l'anno scorso l'ho guardato nella faccia e ho detto tu mi sai di verde schietto così no? un po' per gli occhi un po' perché no? è un ragazzo che ci dà l'anima in tutto no? è un ragazzo che mi dà speranza quindi verde speranza così proprio può essere una sciocchezza ma io l'ho interpretata così Casalboni verde speranza io di quei tre caschi che ho visto credo che quello che abbia dato più da lavorare sia stato quello del buon Christian Lolli sì perché tutto quanto tirato a mano sono mi reputo uno maniacale nei dettagli nella pulizia nei sfumini ci tengo che sia tutto bello preciso pulito e lineare è bellissimo perché prima ho detto beh per fare i caschi ci ho messo una settimana in realtà ci ha messo cinque giorni per fare quello di Lolli e due giorni con i taccini di Casalboni questa è la verità no sto scherzando noi ti ringraziamo perché anche quest'anno ci hai fatto fare un viaggio nell'areografia nella creazione dei caschi bellissimi in bocca al lupo per la stagione viva il lupo viva il lupo così seguiteci abbiamo dei ragazzi molto talentuosi che ci faranno divertire durante l'arco della stagione